Ma attenzione alla Lazio, che pare aver ritrovato la brillantezza di inizio campionato. E ancora una volta la stre cittadina a lanciare lo sprint dei Biancazzurri trascinati da Renzo Garlaschelli. Un derby che praticamente è durato 38 minuti, tanto quanto è bastato alla Lazio per mettere a segno due gol e per aggiudicarsi l'importante posta in palio. La squadra Biancazzurra prosegue così il suo inseguimento alle prime, confortata dalla tenuta atletica di tutti i suoi elementi, che le consente di sviluppare un gioco ad alto livello. Dal primo al novantesimo minuto penso che abbiamo sempre tenuto noi le redini del gioco in mano. Poi sono venuti due golle e con questo penso che abbiamo chiuso la partita con 45 minuti in anticipo. Questo soprattutto perché non c'è stata reazione alcuna da parte della Roma nel secondo tempo.